Buongiorno, buongiorno al dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. L'ipnosi di CS è vera e professionale con la V maiuscola. Oggi rispondo ad un signore di Washington DC, Stati Uniti, che mi scrive Dottore, ma è possibile rimanere, essere ipnotizzati con gli occhi aperti senza entrare in trance come si vede nei film, come si vede nell'ipnosi da spettacolo? La risposta è sì, sì, sì. Anch'io in questo momento sono ipnotizzato, anche se a te ai sedicenti esperti di ipnosi non sembra. Io mi ipnotizzo H24 dal 2008 ad oggi, con l'ipnosi di CS, vera e professionale con la V maiuscola unica al mondo. E faccio tutto di più, non faccio uso di doping, non assumo sostanze esterne, non mi drogo, non tiro di cocaina, mi ipnotizzo letteralmente, tutto naturale. E questo mi permette di camminare sulle acque, anche volendo, potrei anche non ipnotizzarmi, perché non è necessario. Ma siccome l'ipnosi di CS, il metodo di CS, l'ipnosi di CS, vera e professionale con la V maiuscola, siccome non ti ruba tempo, non ruba tempo né a te né ai tuoi cari, perché no? Quindi a me non costa nulla, né in termini economici, né in termini di tempo. E mi ipnotizzo H24, perché mi sento bene, trattasi solo di parole, parole semplici, pulite, trasparenti, comprensibili, però parole create ad arte, ad hoc, che ti fanno camminare sulle acque con tanta energia. Una figura che è sempre ipnotizzata, ad occhi aperti, sai chi sono? Senza neanche usare la parola ipnosi, sono i bambini. Tu direi perché? I bambini ad occhi aperti, se li guardi, sono ipnotizzati, soprattutto dalle figure autoritarie. Chi sono queste figure autoritarie? I maestri, i genitori, gli adulti, i nonni, gli zii. E loro, che cosa succede? Hanno, recepiscono, si comportano come da persone rilassate, che assorbono tutto ciò che gli si dice, sprigionando effetti sia a livello mentale che fisico e anche nei loro comportamenti, in base alle suggestioni, parole che possono essere positive o negative dei loro genitori, in primis, ma aggiungo del terzo genitore, che è la famosa TV. Per cui se tu hai dei figli, ti do un consiglio spassionato, senza spendere nulla, scegli cosa fargli vedere alla TV e spera e prega che tua moglie o tuo marito la pensino come te. Perché se poco o poco non la pensano come te, ecco che nella mente del bambino si crea il famoso dubbio. Ok? Il dubbio che è il nemico della fede. Tu cadi nelle acque come San Pietro. Faccio dei riferimenti religiosi perché sono figlio di una mamma mezza suora mancata, cardiopatica, che prende da un chilo e mezzo a tre chili di medicine al mese e che usa l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola dal 2008 ad oggi, senza fare nulla. Poi il sabato la ipnotizzo, eccetera, eccetera, eccetera. E mia madre sono spariti dolori al petto, causa l'ansia che durava da più di 30 anni, per non dire 40, il mal di testa cronico, i lampeggiamenti ai tendini delle braccia, dolori muscolari e compagnia bella. Tutto cronico significa dove la medicina tradizionale non era riuscita ad eliminare una volta per tutte. E lei mette questi audio, MP3 di CS H24, dopo che ai primi tempi, quando mio padre fu colpito da un ictus fulminante che lo ha paralizzato per la parte destra e che è stato salvato dalla dottoressa Rina Brunini dall'ipnosi vera e professionale a V maiuscola di Los Angeles, Beverly Hills, a più di 11.500 km di distanza, mia madre diffitava, aveva paura come me quando ero uno studente lavoratore senza una linea in tasca e quindi mi diceva, figlio mio, fai a papà, io non voglio perché pensava sicuramente, non me l'ha mai detto, non me l'ha mai detto, a sette satanismo, diavolerie, tutte queste belle sciocchezze che qualcuno mette nella testa delle persone come la mia di un tempo per allontanarti dalla vera verità, ok? Per cui dopo però che mia madre ha sentito ste radioline che stanno sui comodini e che con delle parole semplici, pulite, trasparenti, positive, ha detto ma questo è tutto e ha accettato e da lì mia madre è cambiata dal negativo al positivo, ha una pressione del sangue perfetta, ha 85 anni, sembra di averne 60, è molto religiosa anche se non chiusa di mente, non è pizzoca, casa di mia madre è una chiesa a tutti gli effetti, si vede tutte le messe italiane e internazionali per cui, e in più, si ipnotizza, ok? Ho fatto anche dei video su mia madre che trovi su internet, per cui, perché ti racconto ciò? Perché quando una persona assorbe, sente i benefici all'interno del proprio corpo, della propria mente, della propria vita visibile e invisibile e saranno soprattutto chi ti sta accanto a notare un cambiamento positivo tu avrai la stessa personalità, non cambierai però senza il famoso freno a mano dirato, senza le gomme sconfie, puoi andare oltre le tue aspettative e puoi plasmare il tuo destino, ok? Non credere a nessuna parola del sottoscritto, scaricati un audio mp3 discesse dal sito della mia associazione i prologi associati di Los Angeles, Beverly Hills, a cui ho ceduto tutti i diritti perché al momento ho sospeso le sessioni online di ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola e inizia, inizia, inizia e ti meraviglierai del potere della tua mente e il fatto è che in tv da nessuna parte nessuno ti ha parlato di questa possibilità non significa nulla, tu devi pensare che l'ipnosi vera e professionale a V maiuscola è riconosciuta come medicina alternativa dell'Associazione Medica Mondiale nel 1958 e dalla Chiesa con Papa più o no nel 1847 e lo stesso Papa Giovanni Paolo II, Papa Voitila si auto-iprodizzava per imparare lingue straniere e ne conosceva più di 12, come lui ha dichiarato nella sua biografia un libro così grosso che vi invito a comprare e a leggere per cui e poi se non lo sapessi perché su 100 persone 99 non lo sanno te lo dico adesso io in anteprima, in tutti gli ospedali del mondo ripeto, in tutti gli ospedali del mondo, in tutti, escluso nessuno esiste l'anestesia fatta dall'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola per le persone intolleranti ai farmaci il fatto è che non si pubblicizzi questa grandissima arte tecnica non significa nulla, ok? significa o meglio tu puoi trarre le dovute spiegazioni in merito va bene? però ricordati, la mente ti causa il buio la mente ti dà la luce la mente di ogni essere umano è uguale a un potente scrigno segreto che purtroppo nessuno ci ha mai fatto scoprire fammi tutte le domande del caso visite il mio sito internet www.iprolegiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi e autiprosi del dottor Claudio Saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi, soluzioni di CS del dottor Claudio Saracino e fai share, condividi con amici e parenti perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi anche gentilmente sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi, soluzioni di CS del dottor Claudio Saracino e conclusione delle conclusioni rendi cosciente il tuo inconscio altrimenti sarà il tuo inconscio a guidare la tua vita e tu lo chiamerai destino carlo e jung per alcuni carlo e young un personaggio famosissimo che parlava di mente umana un bacio e un abbraccio dal dottor Claudio Saracino amico mio, amica mia e alla prossima ciao grazie a tutti